La regina Camilla potrebbe prendersi una pausa all'estero fino a lunedì, lasciare Londra e recarsi forse in una spa in India per tornare perfettamente riposata. Lo dice al canale britannico GB News l'esperta reale Angela Levin, secondo cui lo stesso re Carlo avrebbe insistito affinché la moglie andasse in vacanza, perché ha bisogno di un breakdice dalla diagnosi di cancro del sovrano, infatti, Camilla ha assunto sempre più impegni e adesso sarebbe esaus. Camilla tornerà ai suoi impegni pubblici l'11 marzo per rappresentare il re alla cerimone del Commonwealth Day presso l'Abbazia di West. Sta lavorando senza sosta, ha fatto tanto per il re in quest'ultima settimana, ha aggiunto la Levin, penso che sia un segno che la sua salute è migliorata. Carlo le avrà detto, perché non ti prendi una pausa. Alcuni dicono che potrebbe trascorrere questo tempo con i suoi figli e con il marì, mentre altri pensano che potrebbe andare in India, anche se odia volare, perché lì c'è una spa meravigliosa e in due giorni tornerà un posto molto bello, è già stata lì e lo adora assoluta. La regina si è presa carico di gran parte dei suoi doveri, pur prendendosi cura del marito, ha detto ancora l'esperta reale. Si prevede che, mentre la regina è via, il principe William si farà avanti nel portare a venti gli impegni di corte, dopo essersi preso una breve pausa per prendersi cura di sua moglie. Si prevede che, la principessa del Galles si sta riprendendo da un intervento addominale programmato e non dovrebbe tornare ai doveri reali prima di qualche sì.